Oh, eccoci ancora qua! Sei contento di restare qua? Eh, sentici, vedi qui che devi qualche altra parte. Ovvio, stasera prepariamo un video un po' così, tipo musical, una poesia, una cosa musical così. Quel musico? No, però così va bene, ti faccia fede, ti guardano una marea di persone. Problema, quel musico, l'avrò da sapere. Tu, ne l'ha retta da me. E' da retta da te, per questo di. Stasera c'è il musico e io non so che è. Tu stai tranquillo. Eh, stai più di tranquillo. Fa un bel respiro, fa. E lasciala. Ma che respiro è questo? Ma scusa, come si respira? Fa un bel respiro. E l'ho fatto. Meglio. E respiro sempre, respiro anche adesso. Fa un bel respiro così. Dai, ma che è? Mannaggia, scusa strana. Ma è possibile che io adattavo con te? Eh? Vai. Eh? Dai, ma vabbè, ma là che facciamo? Mannaggia. Ma che sacco dico io? No, vabbè, aspetta. Aspetta, tutto suo popò, per dirvi una cosa. Eh? Che facciamo questa cosa così, questi indizzi. Ma qui? Dammi retta da me. Ma se tu non sei l'ultima fase, che ti prendi l'aria a fare? Ma io ti devo retta, ma tu mi devi spiegare cosa fai. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? E la fai lo spawn play? Devo fare il tarcchetto che ti stai finito dentro. Dì! Mi devi spiegare! Mi dici che cazzo fai? Ma la venga da di! Che cazzo fai? Ma la fai, la fai, la fai, la fai! Non fai niente! Ma le cappe e me ne ho! No! No, le minacce pesanti no! Si, si, no, no! No, no! E che sto a fare? A perdere tempo con te io? No, no, no! Ah, no, no! Si, si e nonno! Aspettami di qui! Cosa aspetta? Aspettami di qui, bisogna fare un video bello! Aspettami di qui, bisogna fare un video bello! Aspettami di qui, ti devo vesti per bene! Ti devo vesti per bene, sennò che video fanno! Ma come lo vesti? Aspettami un attimo! Aspettami di qui! Aspettami di qui! Aspettami di qui! Sì, sto aspettando qui. Ma io c'ho da fare che sto qui a combattere con lui. Ecco, ecco, che urli, che urli. E come che urlo? E' mezz'ora che sto aspettando. Ma cosa metti? Ma io che sento il caglio. Metterlo così. Ma dici due cazze, gita te. Ma un cazzo! Arrivo! Ma dove sei? Oh, scemo! Ma io non la metto! Vai là! Non la metto! Ma non la metto! Ma non la metto! Mette là! Ah, ne hai capito allora? Vai, metta stavola. Non la metto! Fermo, fermo. Ma dai! Ti sciatto dico io! Fermo, fermo, fermo! Quanto sei bello! Questo ha! Ma non c'è! Ma non è possibile che io! Ora quanto sei bello! Ma questo è bello! Bisogna farlo! No, no, sta buono! Sta buono! Ma non c'è! 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 Guarda di qui un attimo! Ma che guarda! Che guarda! Il musical lo facciamo così! Vai! Tieni questi! Allora! Vai! Tienlo! Adesso tu fai! Sono nonno Faustino! Mangio l'arrosticino! Io sono nonno Faustino! E mangio l'arrosticino! Am! 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 No! Così no! Aspetta! Sarà spostato il caffè! Eh! Scusa! Riprova! Oh! Cercavo la mouse! Perché oggi ne aria! A lei me ne vuoi! E buttriagli cosa! Riprova! Vai! Datti il tempo! Io sono nonno Faustino! Am! Mangio il rosticino! Am! Hai detto rosticino! È arrosticino! Oh! Come ho detto ditto! No! Aspetta! 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 L'ultimo! L'ultimo! Oh! No! Farfallo! Sono nonno Faustino! Oh! Questa è l'ultima volta eh! Dove chi ha proprio la finestra? Ah! Io sono nonno Faustino! E mangio i rosticini! Am! Non andava bene là! Ma che andava bene? Ma come va bene? Arfallo! Arfallo dai! Ma come? Come va bene? Arfallo! Aspetta! Concentramoci! Respira! Come ti ho detto prima! Questo mettono per bene! Oh! Guarda che stai fermi! Ah! Oh mio Dio! Vai! Io sono... Aspetta! 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 Oh! Che aspetta! Oh! Torna dal tempo io! Vuol fare sempre come ti pare? Vai! Io sono nonno Faustino! E mangio rosticino! Am! Am! Eh! Va bene! No! Pugna a fare! Lli cheuring! Basta burca la manta! Noaa! La basta! Noaaa! Vai bene! Vabbè! Noooo! Wabbè! Le che dette schaacque del co**ne! Nooo! Si andrà calmo con sotto il tratto... Non lo vai a fare il co**ne! ... Continuate a seguire su Youtube per questi video e molti altri, mettete!! Iscriviti! E continuate a commentare La può più perché mi viene da rire Continuate a commentare